Un flash mob per contrastare gli attacchi mediatici che hanno danneggiato la spiaggia del commissario Montalbano, un onda d'urto fatta di giovani, donne e anziani, si è riversato lungo la spiaggia di Punta Secca, con lo slogan I love you Punta Secca. Neanche il maltempo ha fermato le centinaia di persone a corse nella spiaggia resa famosa dalla fortunata serie televisiva tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Il cuore dei camarinensi batte a Punta Secca per dire no alla criminalizzazione mediatica a seguito dell'inchiesta dei carabinieri, il flash mob promosso da Alessio Lupo ha riscontrato l'adesione dei residenti di Punta Secca ma anche di tanti cittadini legati alla frazione di Santa Croce per averla conosciuta in TV. Sfruttando il tamtam di Facebook si sono dati appuntamento dunque a Punta Secca in questo fine settimana per rispondere con un movimento pacifico all'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Ragusa per verificare presunti abusi e illeciti edilizi nel litorale Ibleo. Grazie. 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 Grazie.